Grazie a tutti 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 Pinspeed che prova la difesa Pinspeed, Pantera, Polipo di dentro Pleasant Jolly al ciglio esterno Le battute conclusive sul palo Forse Polipo Poi vicinissimi Pantera e Pinspeed Quindi Pleasant e poi Proper Wise Potrebbe essere Polipo Jet il vincitore Però 4 cavalli in linea Rivediamola, rivediamola perché È stato un arrivo estremamente serrato Con Polipo Jet che rimonta all'interno Pinspeed Gad che stava cercando di difendersi a largo Da Pantera OM Sul palo da questa immagine si potrebbe dare questo arrivo Polipo al primo Pantera al secondo Pinspeed al terzo Pleasant al quarto E poi Proper Wise al quinto Però questo è un arrivo ufficioso I distacchi sono minimi Per cui aspettiamo sempre la conferma E l'ordine arrivo ufficiale La sensazione è che Il successo sia per Polipo Jet con Gianluca Lami Eric Bond al training I colori della scuderia Wave Il tempo al chilometro dovrebbe essere Nell'ordine dell'1,16 La quota del totalizzatore per Polipo Jet È di 12,36